Mettiamo fuori gioco il resort di Carsita. Devastatelo come foste Rockstar, ma non fate del male agli ospiti. Andiamo. Grazie a tutti. E' un bersaglio con mitra. Ehi, soldato del c***o, lì nel giardino pubblico. Ne vedo uno con i mitra. Dovremmo essere a posto. C'è un narco sul balcone. Non colpiamo il bersaglio, sa che qualcuno lo tiene sotto tiro. Attacco il nemico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se non è qui, allora non so dove sia. Spariamo ogni cosa giusto per spaventare i VIP e far tornare Carsita? Non ci sono medaglie da guadagnare. Solo non sparate ai civili. Ci sono dei sicari. Niente come una bella sparatoria per spaventare il pubblico. Parole sante. Tenete la posizione. Regaliamo ai VIP un bello show. No. No! 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 Che cazzo! Il parcheggio, occhio! Veniva da vicino all'edificio. Niente paura, arrivo. Il parcheggio ha battuto. Porca merda. Alla prossima. Sì giù a terra, elicottero giù a terra, elicottero sono abbastanza danni per il resort di Karsita gli altri salderanno il conto se ne andranno è questo l'effetto che facciamo quando imbracciamo le armi elicottero a terra 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 a terra